Sì, non ha lasciato i numeri. A nessuno? Avviso che lui ha avuto 40 richieste. Intuibile. Dall'esterno? Sì. Ieri ne avete viste 7, però ha telefonato in 40. Quindi ha dato il suo... così... testosterone alto... No, no. No, ha detto questo. Voglio far presente che... Cioè, dopo questa puntata... Verrà messa la prova, ecco. Dopo questa puntata mi avranno certo al giorno. Ieri le ragazze che sono scese... Non ti attraevano. Ok, quindi io dico, nel contesto fuori mi può attrare più di una persona, a livello estetico. Per curiosità, bacia in modo passionale, visto che è passionale. Sì, almeno. Con me è stato così, molto. Anche con me. Ah, bellissimo. Beh, poi... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.